Finalmente a settembre arriva sugli schermi di Star TV la nuova serie Giacini Neukunda, tradotta alla fine della notte, che vede come protagonisti gli attori turti Nesli Anna Tagul e Kadir Dogulu. La coppia ritorna sul piccolo schermo nuovamente insieme dopo nove anni. I due infatti a quell'epoca sono stati i protagonisti della serie Fati Arbie dove si sono conosciuti e successivamente innamorati e sposati. La serie tv Giacini Neukunda, prodotta dalla TMC Film e Aya Film, le cui riprese sono iniziate a giugno, è un adattamento dell'omonimo libro di Peride Celal, pubblicato per la prima volta nel 1963 e con il titolo di Giacini Neukunda, nel 1996. Lo scrittore dello stesso libro ha detto «Penso di aver fatto bene, abbreviandone il nome. All'epoca in cui questo romanzo è stato scritto, eravamo giovani, avevamo fede, pensavamo di poter raggiungere la luce e la libertà. Per più di 40 anni abbiamo cercato la luce ed essa è svanita da noi. La borghesia alta, i falsi religiosi, politici, che non pensano nient'altro che ai propri interessi, danno la caccia ai giovani di cui rendono schiavi vite brillanti. Oggi ancora più facilmente». L'eroina del romanzo, Maside, sarà in grado di voltare le spalle all'amore e avere successo nel tentativo di creare una nuova vita per se stessa e suo figlio e raggiungere un mondo umano? Il romanzo è il romanzo rosa più bello che abbia mai scritto. L'attrice protagonista di questa serie, Neslian Atagul, è diventata popolare per aver intrapreso Nia Sedin nella serie di successo Kara Sevda, accanto a Burak Ozishivit. Successivamente l'abbiamo vista nel personaggio di Nare in Seferin Kizi, la figlia dell'ambasciatore. Dai giornali turchi si apprende che questa serie l'ha dovuta abbandonare prima del previsto per aver avuto problemi di salute, sindrome dell'intestino permeabile. Dopo un po' di riposo lavorativo, eccola nuovamente al lavoro con una nuova serie bomba che promette davvero bene e per di più accanto anche a suo marito. La storia di questa nuova serie si basa proprio sul personaggio dell'ha interpretato, Machida, che sta cercando di trovare una nuova vita per sé ma soprattutto per suo figlio. Lei infatti non è in grado di trovare la felicità nella sua vita lavorativa e viene messa alla prova dall'amore durante il cammino che ha intrapreso per ritrovare se stessa ed entra in un mondo mai visto prima. Con le sue location accattivanti, un cast ricco ed eccezione e una storia impressionante, Jechenin, Ukunda, diventa una storia da favola assolutamente da non perdere e sarà presto a trasmesso su Star TV. Buona visita!